Volevano tornare a casa in sordina i campioni, ma anche all'atterraggio presso l'aeroporto militare di Grazzanise nel Casertano, Spalletti e i suoi sono stati accolti da un bagno di folla. 10.000 ai tifosi presenti ad accoglierli, ma il loro arrivo è stato blindato in vista del match contro la Fiorentina, quando gli azzurri potranno finalmente festeggiare in patria la conquista matematica del loro terzo titolo nazionale di sempre. Con il mister, ieri è rientrata solo una parte della squadra, gli altri sono invece arrivati stamane al Konami Training Center per l'allenamento di rifinitura, alla vigilia della sfida al Maradona. A Napoli non ci sarà nessuna zona rossa in occasione della gara che si disputerà domenica al Maradona tra Napoli e Fiorentina, fischio d'inizio alle ore 18.00. A conclusione del match degli uomini di Spalletti contro la compagine Viola sono naturalmente annunciate ore di ulteriore festeggiamento dei tifosi napoletani. A differenza quindi di ciò che è accaduto per le gare con Salernitana e Udinese, nella riunione tecnica che si è tenuta questa mattina non è passata la linea della conferma del blocco del traffico. E' arrivata infatti la comunicazione del dispositivo generalmente previsto dall'ordinanza della Municipalità per l'intera area di fuorirutta. Napoli è azzurra, sono settimane che si festeggia ma con la conquista matematica del terzo scudetto ora anche il tricolore ha invaso la città. Adesso infatti anche i pali dei semafori del cuore del centro cittadino rispecchiano la gioia che si può leggere sui volti dei partenopei. Centinaia le magliette azzure che sfilano per le vie del centro colorando di celeste le arterie del cuore di Napoli, un cuore che batte con renata passione. Un colpo rapido e preciso, un'azione chirurgica portata avanti apparentemente da una sola persona. Lo scorso 3 gennaio un centro scommesse di Pozzuoli era infatti stato preso di mira da un bandito che a volto coperto e armato di una lama era riuscito a farsi consegnare l'incasso del giorno nel giro di pochissimo. Settimane di indagini e di minuziosa analisi dei filmati di videosorveglianza delle telecamere dell'attività commerciale hanno portato oggi alla svolta. Stamane infatti i militari della compagnia di Pozzuoli hanno fermato un diciottenne, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso i fatti. Napoli è sicuramente una città fondamentale ed importante sulla strategia del mezzogiorno ma c'è una visione che il Presidente del Consiglio Meloni ha dato che è quella di mettere insieme il Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza insieme alla politica di coesione per cercare di avere una visione comune e soprattutto di utilizzare in modo efficace ed efficiente queste risorse. Dalla Due Giorni Giovani Lavoro Futuro, promossa a Napoli dalla Fondazione Merita in collaborazione con CDP Entesa San Paolo presso le Gallerie d'Italia, il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, che ha la cassaforte del PNRR, tiene il punto sull'ipotesi di spalmare sui fondi di coesione e sviluppo quei progetti che sono stati inseriti nel Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza ma che non riusciranno ad essere completati entro il 2026. Una proposta irricevibile per il Governatore De Luca che è arrivato a invocare la lotta armata. Tema caldissimo che si incrocia con le politiche del lavoro e di sviluppo del mezzogiorno come ci spiega Massimo Temussi, Presidente di Ampal Servizi, società in house dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, che ha dato un contributo importante alla stesura del decreto lavoro, quello che manda in soffitta il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una misura molto ampia che mischiava misure di povertà con misure di lavoro. Ecco, questo non è in questo decreto, c'è una ripartenza verso l'attivazione attraverso percorsi di attivazione al lavoro e quindi di formazione professionale che come sappiamo è la prima politica attiva. Risanamento a Rione Sanità e San Carlo all'Arena Napoli, il futuro di due storici quartieri della città, al centro di un convegno ospitato da Palazzo Serra di Cassano, sede dell'Istituto di Studi Filosofici. Se ne è discusso soprattutto dal punto di vista economico, grazie alla presenza di esperti del settore come l'economista Pasquale Persico. Questa area che va lungo la piazza Calo Terzo fino al Museo Nazionale è stata molto trascurata in passato. Questa volta questo progetto abbraccia una complessità enorme che riposiziona un'area importante che di solito non veniva messa al centro della pianificazione. Contrastare l'interminabile fuga dei cervelli verso altre regioni e all'estero e promuovere il Made in Campania grazie agli incentivi destinati ai giovani imprenditori sul territorio. Talenti che vogliono fare una scommessa sulla propria terra a discapito della classica scelta di lasciarla. Si è riunita per analizzare questi temi, inclusi nella proposta di legge torno in Campania, la terza commissione permanente presieduta da Giovanni Mensorio presso la sede del Consiglio regionale della Campania. La terza commissione ha incardinato anche l'esame della proposta di legge e istituzione della rete regionale dei borghi della Campania ad iniziativa del Presidente della Commissione Speciale Aree Interne Michele Cammarano. Cercare una risposta in una materia complessa come il comportamento del vulcano Flegreo dove le certezze sono pochissime. A Napoli dal 2 al 4 maggio ci sono i lavori di un workshop internazionale che ha coinvolto esperti di primo livello. Gli studiosi si sono dati appuntamento nella chiesa di San Severo al Pendino a Via Duomo. Il focus puntato sui campi Flegrei e la Campania Campana insieme a diverse organizzazioni di vulcanologia e geofisica. Tra i problemi legati al territorio dei campi Flegrei, durante il convegno è stata sottolineata la preoccupazione in merito alla risalita del suolo e alla ricarica della camera magmatica in profondità che potrebbe anche causare erozioni nel prossimo futuro.